Amore, eccomi qui a Pestum. Queste sono le tue prove. Che ne pensi? Sei contenta? Sei soddisfatta? Guarda qui, tesoro. Inestimabilissimo valore. Veramente. Sono arrivato un po' tardi, alle 18. Va bene così, dai. C'è messo anche la musichetta, eh? La musichetta, la musica. Guarda che facile. È come una sorpresa nell'uovo. Intelligenti per ciò che sapevamo di trovare. A confronto tanti che hanno l'uovo, sanno che è andato a male e lo aprono lo stesso. Invece di far crescere un bell'uccellino. Eh? Non è così? Bellissimo. 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 Ovviamente. Bellissimo. Allora... Il Tempio di Nettuno, metà del V secolo avanti Cristo, a C. Sai, a giorni ci sono le elezioni, no? Allora, stavo pensando un attimo a partito della libertà di Forza Italia, no? Allora, se tu fai caso, Forza Italia si chiama FI, Forza Italia. E Silvio Berlusconi gli siede a Roma perché ha la sede, no? Come tutti i partiti a Roma, è accampato lì. Allora a Roma tu fai RO, tu metti FI più RO fa FIRO. FIRO. Non è proveniente da Lucifero, solo che ha aggiunto la I al posto della I che fa se c'è Lucifero, Lucifero. Ma hai capito il discorso, no? Senza lasciare intendere a persone che gli piace fare intendere ciò e non temono l'ignoranza e i danni che commettono. Andiamo avanti. Lucifero. E si vede perché lui è troppo originale da Lucifero. Certo che con quella becata di gonzole sciogliere i paperetti, che a me tanto non sembrano paperetti perché a casa mia i libri ti dicono che le paperetti sono differenti, no? E anche offendere l'identità umana, perché sorridono, ha gran riso. Noi invece ce ne andiamo a godere, a godere per fatti nostri, senza sapere termini e tempi e valori di questa gente. Senti che musica? Poi parlavano di tv spazzatura. Questa è la tv spazzatura. Metti le mani del potere, del governo e dell'amministrazione in mano a una 26enne, in mano a una 104enne, che non sa un cazzo di un'analisi politica, sociale, comunitaria, operativa, amministrativa, legale. Proprio gente che sta smacchiando, offendendo, solidendo sulla testa del popolo. Il popolo è più di un occhio perché hanno più propensità, benevolenza per la propria moglie, per i propri figli, per il valore reale della società, di quello che costituisce. Allora insistono a ridere di più, lo sai perché? Perché ormai dicono abbiamo affondato di qua, affondiamo ancora. È solamente che ci sono persone garanti come noi, come me, come il mio partito, come tanti altri. Bello, l'acqua fresca, qui, ad una certuna delle linee a pia, perché sennò sono cazzate, sono ragazzate, sono da ragazzi. La batteria sta carica. Ok, qui tu, ci dovrai venire amore, non credo che lasci tutto dietro al lavoro, senza di te. Ho visto delle ombre eccezionali. Quella crebotta. L'Eden, di un popolo romano, vedi? Invece che la villa di un Eden degli ebrei. L'Eden popolare. L'Eden, di un'Eden, di un'Eden, di un'Eden, di un'Eden. Inoltre, 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 inoltre. Inoltre, 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 inoltre. su youtube non voglio mettere più di tanto per riservatezza e consistenza della riserva del sito però il mio saluto di presidio di presenza di testimonianza cristiana ebbene mi vale che ci sia siamo nelle mura guarda che roba sta mettere qua con dieci cavalli con dieci cavalli a curarli a patinarli a sodaliziarli che ne pensi poi mi fai sapere se sei d'accordo guarda un po' 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 su Facebook, su Anirci, su Chattahit. Sono i miei migliori amici perché con il lavoro e l'impegno che ho e con te